Questa settimana a soli 49 centesimi al chilo patate locali bianche, rosse e gialle, l'orto del casale, freschezza e bontà a chilometro zero. Ti aspettiamo nei mercati di Riva Nazzano Terme, Viguzzolo, Casal Noceto e Volpedo. Buongiorno a tutti, benvenuti a Vox Populi, oggi siamo a Torrazza Coste, tra poco tre persone fermate in maniera casuale per le vie del paese ci racconteranno pregi e difetti proprio di Torrazza Coste. Andiamo a sentire. È in gioiellino, è fuori dalle piste, è all'interno, appena sali, io abito in alto, c'è un bosco... Meraviglioso. Meraviglioso, passeggiate. Io ogni volta mi incanto, mi incanto vedere gli animali, dai nelle protti, non lo so, è bellissimo. Io le dico a lasciato Milano e sono venuto a vivere qui. Quindi il paesaggio che circonda questo comune è il pregio, troviamo un difetto. E in più, le dirò, trovo ancora prodotti naturali e ho imparato a fare l'orto e ho trovato le semenze quelle buone e gente che mi ha insegnato, sempre da brava milanese. Ma lei è innamorata di Torrazza Coste? Yes, e non avrei lasciato di là. Un difetto è provinciale, non hai dibattito culturale, ma non c'è neanche un posto dove andare a giocare a carte. Le dico, non le dico a Brigia che giocherei a Milano, a Scopadassi, dove vai a giocare a Scopadassi? Non c'è. Non c'è. I bar all'HD? Boh, sono tutti vecchietti, cioè proprio maschile, non c'è un luogo di ritrovo così. E un altro difetto è che qualsiasi attività tu apri non va. Si esce, hai lì per vicino e tutto quanto. Quindi va a un ristorante perché è tipico di qua, va alla chiesa perché c'è e basta. Il difetto è l'istituzione scuola. Come mai? Spiegaci meglio. Perché cambiano le maestre e i professori ogni tot mesi e tutti gli anni soprattutto. Infatti io quest'anno ho deciso di mandare mia figlia che deve andare a fare le medie a Voghera, a scuola. Quindi questo crea una sorta di discontinuità anche proprio nel piano delle lezioni. Sì e soprattutto non credo neanche che alcune maestre siano preparate per quanto riguarda i disturbi della prensione che hanno alcuni bambini perché mia figlia me ne sono accorta io in prima media, seconda media. E comunque molti altri bambini so che alle medie si sono resi conto di avere questo disturbo, cioè o meglio le professoresse. Quindi l'elementare non era stato riscontrato. È un tema importante devo dire, questo tema che hai intavolato. No ma anche l'educazione sessuale e l'educazione all'alimentazione, cioè proprio non c'è assolutamente informazione su questo. Secondo me bisogna iniziare già all'elementare a fare questo tipo di... Hai riscontrato che a Voghera invece questi due temi vengono affrontati rispetto a Torrazza? Ma c'è più possibilità credo. A Torrazza i problemi sono sempre gli stessi, cioè criticare le maestre ovviamente perché sono maestre che... Ti faccio l'esempio più palese che è la maestra di musica, che non è una maestra di musica ma è stata messa ad insegnare musica quest'anno. Quindi i bambini in flauto non sanno neanche che cos'è quest'anno. Troviamo un pregio invece, dai. Allora, il pregio di Torrazza Coste sono le colline. Il territorio. Esatto, sì, il territorio. La buona volontà delle persone di fare coltivazione biologica, seppur probabilmente non è molto conosciuta perché io mi rendo conto che le persone qua vanno a fare la spesa all'iper, punto. Quindi io che per dire ho le galline e le verdure che sono veramente biologiche sono una sconosciuta, ma non solo io comunque. E poi appunto c'è questa, c'è Torrazza Coste come credo tutti gli altri paesi è divisa tra poveri e ricchi. I poveri non vengono presi in considerazione dai ricchi e viceversa. C'è proprio una divisione, c'è un pregiudizio. E quindi questa cosa qua sì mi dispiace molto. Perché se io organizzo una festa che sia di paese è difficile che la Torrazza Bene venga alla mia festa. Ma come io non andrei alla loro perché non c'è uno scambio, c'è proprio una diversità che si vede bene. Quindi c'è bisogno di maggior coesione tra i cittadini tutti a prescindere dal ceto sociale. Secondo me sì, però questo è un problema vecchio e comune ancora di adesso, ma sempre, sempre è stato così e credo ovunque. Quindi è un'utopia questa. Io sogno la pace nel mondo, l'importante è sognarla, poi vediamo nel piccolino se può succedere. La Torrazza magari, esatto. La Torrazza Coste si vive bene. Quindi già questo è un pregio. Si vive bene perché? Perché è tranquilla. Adesso ultimamente qualche furto in più c'è. Purtroppo. Purtroppo, però sempre molto meno rispetto agli altri posti. Troviamo un difetto. Appunto. Qualche furto. Qualche furto, magari un po' di controllo in più. Ci vorrebbe. Ci vorrebbe appunto per arginare questo fenomeno. Grazie.